oggi noi siamo qua nel museo delle auto preistoriche come preistoriche delle auto storiche storiche e guidi tu no però ci danno la muta che rumore ragazzi è bellissimo poi ci sono tanti pulzanti strani mi verrebbe da schiacciarne che bella macchina che hai dove andiamo andiamo a santa monica non pare ma io vado in qualche parco divertimento ora mi sbaglio allora è stato bello il giro non riesco a inclinare le dita questo qua va a vapore guarda si vede che va a vapore perché ci sono queste bombala non parte proprio la mia auto mettiamo su drive allora avevano la palla una maschera anti gas di quelle molto strane in poche parole mi verrebbe da prenderla c'è un casco delle bombe bombe si guarda quelle sono le bombe la dinamite era stato comprato da Clark Gable l'attore e ha cambiato la mente e ha comprato un cadillac e il po' il salesman questo è in mezzo della depressione è un carattolo no-touch car no I don't think so. Huge car, probably weighs almost 6.000 pounds it's a V12, nice beautiful car and then we'll start a little bit for Italy I just like it you like Italy? what do you like Nioh? what do you like? the house, the horses, the dragos, the bales, the soliana, the gala, 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 the gala! Grazie a tutti.